Potrebbe arrivare mercoledì a meno di risvolti clamorosi una soluzione, seppur parziale, in merito alla vicenda dell'Ucraina. Infatti si terrà un vertice ad alto livello tra Russia, Ucraina, Francia e Germania. Putin ha avvertito che se entro quella data bisogna trovare un certo numero di punti sui quali si è discusso negli ultimi tempi. Intanto la situazione rimane fortemente critica anche sul piano diplomatico. Tra i punti più discussi la depilizione della Ia del Bronte dopo gli avanzamenti dei ribelli e la distanza di arretramento delle armi pesanti. Intanto Mosca aveva avvertito gli Stati Uniti su conseguenze imprevedibili in caso di forniture belliche americane a Kiev. Intanto la cancelliera tedesca Angela Merkel sarà ricevuta oggi a Washington dal presidente degli Stati Uniti, Obama.